La Regione Toscana rifiuta il piano di riorganizzazione nazionale presentato da Finmeccanica, che interessa 2000 esuberi in tutta Italia e in Toscana diversi stabilimenti diretti e controllati di Selex S situati nelle province di Firenze, Pisa, Siena, Arezzo. Lo ha dichiarato il governatore della Toscana Enrico Rossi al termine di un incontro con i sindacati, a cui hanno partecipato anche l'assessore regionale Gianfranco Simoncini e il presidente della provincia di Firenze Andrea Barducci. Ci possono anche essere progetti di riorganizzazione che portano a accorpamenti anche delle presenze in luoghi fisici. Il problema è il futuro, cioè quale futuro si dà a queste aziende che rappresentano, lo sottolineo, un patrimonio italiano e un patrimonio italiano di competitività nel mondo. La Selex conta in Italia 17.700 addetti, di cui 1.200 soltanto a Firenze, e un fatturato di 4 miliardi di euro. Il presidente della regione Rossi ha annunciato che chiederà un incontro a Roma al ministro Passera con l'obiettivo di costruire un tavolo nazionale. Regione e provincia di Firenze sosterranno la richiesta dei sindacati di coinvolgere tutte le 11 regioni italiane interessate dal progetto per creare un coordinamento in difesa delle realtà produttive. Rossi invierà una lettera anche al presidente del Consiglio Monti in merito alla dirigenza di Finmeccanica.